Il sistema immunitario è, senz'altro, uno degli aspetti più affascinanti, devo dire, del nostro corpo, perché è proprio quello che è predisposto a difenderci dalle malattie. Non solo quelle che vengono dall'esterno, come le infezioni, ma anche quelle che crea il nostro stesso corpo. Per cui le malattie, come i tumori, cioè quando le cellule degenerano, c'è una particolare cellula del sistema immunitario che è in grado di sorvegliare proprio questo aspetto, la trasformazione tumorale di una cellula. Di che cosa è fatto il sistema immunitario? Il sistema immunitario è fatto di cellule e di molecole, di cellule che appartengono a due sistemi importanti. Uno è il sistema immunitario innato, quello con cui noi nasciamo, tutti noi nasciamo. Il sistema immunitario acquisito, quello che acquisiamo man mano che cresciamo durante la nostra vita. Il sistema immunitario innato è formato da cellule che sono in grado di riconoscere i nostri invasori, i batteri, ad esempio, e di fagocitarli, cioè di inglobarli all'interno del loro citoplasma e di distruggerli e di eliminarli. Le cellule che fanno queste cose vengono chiamate fagociti, perché fagocite, no? Vengono anche chiamate granulociti perché contengono dei granuli e in questi granuli ci sono proprio quegli enzimi adatti a distruggere i batteri che vengono inglobati. Le cellule dell'immunità specifica o acquisita sono i linfociti, linfociti T e linfociti B. Da cosa prendono il nome? I linfociti T prendono il nome dal fatto che nascono, come tutte le cellule del sistema immunitario, nel midollo osseo e vanno a maturare nel timo. I linfociti B nascono anche loro nel midollo osseo e maturano nel midollo osseo stesso. Però si chiamano B per una cosa strana, perché la prima volta che sono stati riconosciuti, sono stati riconosciuti in un organello speciale, hanno solo gli uccelli, che si chiama borsa di Fabrizio, per cui B deriva da borsa di Fabrizio. I linfociti B presiedono a quella che viene chiamata immunità umorale, cioè sono in grado di produrre delle molecole che aiutano a difenderci. E queste molecole sono i cosetti anticorpi, per cui la produzione degli anticorpi deriva dal fatto che i linfociti B riconoscano quella cosa specifica verso la quale devono reagire e che si chiama scientificamente antigene e siano in grado di maturare, diventare plasmacellule e le plasmacellule sono in grado poi di produrre gli anticorpi specifici verso quel determinato antigene. I linfociti T invece presiedono alla immunità tessutale, cioè hanno più rapporti con le cellule. I linfociti T nascono nel midollo osseo e come preti, cioè i linfociti immaturi, arrivano al timo e nel timo si compie per loro un'operazione importantissima, perché nel timo imparano a riconoscere quello che appartiene al nostro organismo e che viene chiamato self da tutto quello che viene da fuori del nostro organismo, che viene chiamato non self. E questo è molto importante perché il self, cioè gli antigeni delle nostre cellule, vanno tollerati. Non dobbiamo montare un'azione aggressiva nei confronti delle nostre stesse cellule, mentre dobbiamo avere un'azione aggressiva nei confronti delle cellule che vengono da fuori, soprattutto dei virus o delle cellule che vengono modificate dal tumore. Grazie. 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 Grazie.